È morto dai Roe, con la divisa addosso, mentre rincorreva un ladro Emanuele Reali, solo 34 anni, cresciuto a Rieti, ma residente a Bellona, una moglie bellissima e giovane, due figlie di 4 e 1 anno. Lo ha travolto un treno in via Ferrarecce, mentre cercava di fermare un fuggitivo con la divisa addosso. Un carabiniere Roe, come oggi lo ricordano in tanti. Dopo la tragedia a Caserta è partita la caccia all'uomo. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del bandito, che ieri sera ha causato, seppur involontariamente, la morte del militare. Il dramma si è consumato poco prima delle 20, a 500 metri dalla stazione ferroviaria. Reali è stato investito da un treno regionale, nei pressi di un passaggio a livello. Stava inseguendo quel ladro in fuga, il quarto membro di una banda di ladri, che nella mattinata di ieri si era resa responsabile di un furto in un appartamento, nei pressi del parco La Selva. Reali, dopo aver scavalcato il muro della stazione, è stato travolto dal convoio. Due dei quattro banditi erano stati presi subito, il terzo è stato catturato poco prima della tragedia, ora è caccia al quarto uomo. Una preghiera e un abbraccio commosso alla famiglia, agli amici di Emanuele, a tutta l'arma dei carabinieri. Questo il cordoio di Matteo Salvini, che ha pubblicato un post sui social. Ma sui social lo ricorda anche l'arma dei carabinieri, i suoi colleghi, tanta rabbia tra i militari. La sua fine richiama alla mente la locomotiva di Guccini, anche se è proprio un'altra storia, ma c'è un verso di quella canzone, che recita così, gli eroi sono tutti giovani e belli. Ed era giovane Emanuele quando l'entusiasmo lo ha spinto a rincorrere un reo senza preoccuparsi delle conseguenze al buio lungo il binario di una ferrovia. Questo un passaggio del posto con cui tanti militari ricordano quel carabiniere coraggioso.